ok eccoci qua vi è piaciuta l'analisi della partita l'avete trovata di vostro gusto di vostro gradimento e sono sempre contento quando accadono queste cose vi ringrazio per i commenti per i mi piace per le condivisioni per tutti i feedback che avete lasciato nell'ultimo video che vi lascio qui sopra nelle schede e spero che anche questo possa essere tanto fortunato quindi mi piace un commento aspetto le vostre opinioni qui sotto nei commenti e come al solito in descrizione invece vi lascio il link per scaricare gratuitamente il numero 10 perché in questi giorni usciranno un paio di articoli anche un mio video ok quindi vi aspetto tutti sul numero 10 completamente gratuito nella quale possiamo poi monitorare anche tutto l'andamento dei campionati mondiali di calcio che stanno per iniziare ahimè invece la juventus la rivedremo a gennaio ma proprio per questo ultimo giro di pagelle del 2022 pagelle di ventus lazio 3 a 0 sono contento di poter finalmente dare una seria valutazione a massimiliano allegri perché ieri sera c'è stata veramente una voglia anche da parte dell'allenatore di ribaltare questo momento negativo e di lasciare di abbandonare salutare il 2022 nel migliore dei modi perché ieri sera allegri l'ha preparata veramente bene allegri ha imprigionato milinkovic savice in una specie di dimorsa con rabbio assoluto protagonista allegri ha dato continuità al 3-5-2 ha dato continuità un centrocampo che stava funzionando ha dato continuità all'attacco ken emilic che stava comunque funzionando a targa alterne ma che avevamo già visto anche in occasione della partita con l'ella sverona ha dato continuità a bremer centrale difensivo ha dato continuità quindi anche a un bonucci out all'interno delle partite più importanti ha dato continuità sugli esterni queste sono cose molto importanti e soprattutto allegri verso la fine continuava a chiedere attenzione perché non voleva assolutamente prendere gol ieri sera come dicevo nel post partita ho finalmente visto per la prima prima volta da ritorno in panchina di allegri una squadra sicura una squadra convinta una squadra consapevole dei propri mezzi allora mi viene anche il nervoso mi viene anche il nervoso a ripensare a quella che è stata l'annata fino adesso mi viene proprio la rabbia però ieri sera allegri ha proposto una squadra una formazione ideale con anche fagioli leggermente più alto per cercare di lasciare appunto locatelli e rabbio nella mediana 2 cercare di aumentare un po la qualità là davanti una mossa che alla fine ha funzionato prove di 3 4 2 1 che possa essere quello il modulo per il rientro di quando torneremo in campo e attenzione che chiesa è stato schierato esterno quinto a tutta fascia e anche quella è stata una mossa coraggiosa da parte allegri che avrebbe potuto fare un cambio più difensivo e coprirsi andare a fare un 4 4 2 storto come magari era successo in tante occasioni no questa volta si è deciso di continuare ad attaccare giocare a viso aperto di cercare anche il terzo gol e queste sono cose positive che non possono assolutamente essere dimenticate non possono passare in osservate perché quando c'è da criticare si critica quando c'è da riconoscere invece si riconosce e tutte queste cose insieme più il risultato rotondo più la partita meritata più il terzo posto agguantato un altro scontro diretto vinto sesta partita vinta di fila sesto clean sheet ma analizza la partita singola e se l'allegri si becca a 7 e mezzo e se lo merita 6 e mezzo a scesni perché la last ha avuto due mezze occasioni e scesni si è fatto trovare pronto una con un tiro alla distanza di pedro e poi due mezze occasioni che ha avuto nel finale quando ormai il risultato era già sul 3 0 ma scesni ha risposto presente ha mantenuto la porta inviolata ancora una volta e ha fatto tra virgolette godere allegri che chiedeva attenzione proprio per questa cosa qui non si volevo un calo di concentrazione negli ultimissimi istanti dell'ultima partita del 2022 quindi scesni quando è stato chiamato in causa ha detto io ci sono sono qui voto 6 a gatti avete mai visto aladin quando in aladin giafar parla appunto di aladin e dice un diamante allo stato grezzo gatti è grezzissimo è grezzissimo e probabilmente per una partita di questo livello ancora non è pronto però però grinta voglia di emergere gioca lui al posto di bonucci mossa sorpresa che rimette bremer al centro ok della difesa 3 e gatti prende un cartellino giallo ingenuo su mininko vissavic proprio e continua la sua partita ragazzi gatti è i primi mesi di questi livelli di calcio qui e io lo so io li leggo i commenti io continuo a leggere che c'è gente che dice che gatti con la juventus non c'entra niente ma io vi invito a portare pazienza vi invito vi invito a pazientare non tirare giudizi definitivi su un giocatore che mai aveva giocato a questi livelli perché la personalità questo ragazzo ce l'ha ce l'ha alla grande e io il 6 glielo do anche ieri sera perché ancora una volta abbiamo mantenuto la porta inviolata e io sono convinto che gatti sul lungo possa diventare un gran bel giocatore se è mezzo danilo versione capitano io credo che anche questa cosa qui che sicuramente è merito di allegri perché è l'allenatore che decide chi è capitano e chi no abbia ridato l'infa vitale a questa squadra perché poi quando bisogna ragionare sui meriti e demeriti degli allenatori beh gli allenatori scelgano le formazioni gli allenatori scelgono determinate cose tra cui il capitano ci sono due tre cose che sono ricorrenti nelle ultime sei partite che provengono proprio l'atto allenatore che poi analizzeremo nei video che ho intenzione di portarvi domani dopo domani ma sono davvero convinto che la juventus abbia ritrovato una sorta di equilibrio anche proprio mentale con danilo capitano e poi la solita prestazione di alto livello bel lancio per milic che è stato fischiato come fuori gioco anche se era regolare una delle occasioni più pericolose del primo tempo oltre al gol io al colosso di tappi tanga o colosso di dark steel come l'avevo definito quest'estate al suo arrivo devo dare sette perché ragazzi è lo dicevo anche in qualche post l'ho detto in un tiktok è il giocatore che ti cambia la partita è il trucco per giocare così alti con la difesa 3 perché questo davvero calamita crea una calamita e se gli altri stanno attaccando sulla ripartenza lui con l'anticipo stronca l'attacco degli altri ti fa rimanere in attacco tu non stai più difendendo stai attaccando tu che cosa vi devo dire mostruoso mostruoso altra partita mostruosa di bremer magari non così appariscente come in altre occasioni ma se la difesa sta a galla così se la difesa rende così non può non essere merito di bremer che si becca sette anche ieri sera voto 6 a quadrado che ha stretto i denti ha stretto i denti perché era in dubbio non la miglior partita di quadrado ma siamo ancora qui a ripetere le stesse cose però io al alla fine di questo percorso di queste sei partite un plauso voglio farlo a quadrado perché siamo stati a criticarlo tante volte abbiamo detto fin troppe volte che non è più quello di una volta io confermo queste cose però lui è stato costretto obbligato a giocare sempre fino adesso perché la nostra la rosa non era strutturata in maniera tale da permetterci giocare col 352 o comunque con la difesa 3 perché bene o male lui è l'unico esterno destro di ruolo se non decidio che comunque fuori quindi quadrado già non era in forma poi stato costretto agli straordinari poi non era nemmeno al 100 per cento nella partita di ieri ha dovuto comunque stringere i denti questo resta giocando tutte davvero tutte e quindi un applauso a quadrado lo faccio che ora potrà respirare un pochino perché al mondiale non andrà e quindi vediamo come tornerà in versione 2023 con un po di riposo alle spalle speriamo con un giocatore recuperato come de sciglio a dargli la come si dice a dargli la il cambio e magari non solo anche un giocatore che potrebbe arrivare come vice quadrado questo signore qui invece è un altro di quelli che ha cambiato la juventus perché da quando è entrato lui la juventus non ha mai perso in serie ha perso soltanto una volta in champions col psg ma direi che è una sconfitta che ci può stare contro una squadra sicuramente più forte di noi nicolò fagioli e è juventinità e voglia e grinta e lotta sui palloni è un sogno anche di sogno che sia da bambini e che si realizza sui vent'anni dopo una lotta sua personale dopo un giro in giro per l'italia dopo prestiti dopo momenti che sembravano arrivate poi no e questa è la realtà cioè un giocatore che entrando in punta di piedi nel centrocampo l'ha sistemato con tante caratteristiche che mancavano fino a questo momento non me ne voglia mckenny ma da quando è uscito mckenny ed entrato fagioli sicuramente qualcosa di diverso sia visto locatelli voto 7 perché anche lui non era al meglio stretto i denti anche lui primo tempo che non mi era piaciuto il secondo invece aumenta i gir del motore locatelli e migliora tutta la juventus dicevamo nel video di oggi no la juventus è un diesel scoppia nei secondi tempi e la prestazione di locatelli è magistrale perché veramente nel secondo tempo è venuto fuori locatelli tanti cambi di campo la juventus aveva preparato la partita su questo discorso quindi densità centrocampo per cercare di bloccare i giocatori offensivi e forti della last per via centrali per poi andare sui laterali e chi gli fa i cambi di campo il pivo e locatelli veramente secondo tempo ha fatto una gran partita e voglio dargli 7 perché la conferma che questo centrocampo sta continuando a funzionare fagioli centrodestra l'arabio centrosinistra locatelli avanti la difesa questo centrocampo sta funzionando e allegri lo sta confermando attenzione perché allegri l'anno scorso non aveva mai schierato la stessa formazione adesso nemmeno adesso però ci sono delle linee di continuità che fino adesso non aveva mai visto ed erano cose che continuavamo a dire ma mister ma non si può continuare a cambiare sempre e infatti adesso i risultati stanno arrivando perché allegri sta seguendo questa linea che sono quella giusta quella della continuità quando le cose funzionano 8 7 arabio perché ragazzi arabio arabio in forma c'è poco da fare poco da girarci intorno poco da il rabio visto in questa stagione tanta roba davvero tanta roba e ancora una volta la sblocca lui sta partita ragazzi cioè la sblocca chemma su una giocata di rabbio in realtà la giocata grossa di chemma rabbio fa break che fa assist in verticale bella palla di rabbio rabbio credo che sia nel massimo momento di splendore da quando la juventus il massimo è super pronto per questo mondiale vediamo come va faccio un po fatica a dire in bocca al lupo alla francia però questo è voto 6 mezza kostic meno appariscente rispetto alla partita con l'inter però il 2 a 0 lo creiamo proprio grazie a lui che è bravo a portare avanti questo pallone tirare in porta e poi il tap in arriva da parte di moise ken però kostic che poi anche costretto uscire per infortunio spero nulla di grave mi auguro che possa andare a giocare il mondiale realizzare una sorta di sogno perché immagino che giocare il mondiale per per qualsiasi giocatore possa essere semplicemente un sogno però kostic è uno di quelli che nella difesa 3 ha sicuramente trovato più smalto rispetto a tutti quegli altri 6 mezzo pure milic che fa gol e comunque fa la sua solita partita di di sacrificio la sua solita partita di raccordo milic è un esempio ragazzi perché questo deve andare a giocare sul mondiale si è fatto 90 minuti di sbattimento ma è tolto indietro la gamba quindi credo che per tanti giocatori che magari in questo in questo turno in tanti siano rimasti indietro a dire ma mimo non lo so milic è un esempio davvero un esempio 6 mezzo arriva anche il gol quindi tanto meglio 7 mezzo invece per moise ken moise che ragazzi fa doppietta tocca pochi palloni un altro lo sbaglia rischia la tripletta e moise ken che l'ha detto chiaro e tondo ho fatto tanta dieta ho fatto tanto allenamento ho perso peso sto meglio sono 6 chili meno rispetto all'anno scorso quanto conta la forma fisica già quest'estate ricorderete no si diceva che ne è arrivato i suoi parametri fisici hanno stupito un po tutti adesso lo sta dimostrando peccato veramente che arrivi la pausa nel momento in cui lui sta dimostrando più di quanto abbia dimostrato mai dal suo ritorno alla juventus è il suo momento e meno male dato che vlavic era fuori è arrivato il momento di moise ken 7 mezzo doppietta di moise ken voto 6 ad angel di maria che entra e si scalda si scaldicchia in media del mondiale il gol del 3 a 0 nasce da lui dalla sua palla in verticale per il movimento movimento che viene effettuato eseguito da federico chiesa che poi va a fornire no l'assist a milic per il gol del 3 a 0 quindi molto molto bene anche il rientro di federico chiesa sono contento del suo assist avrete visto nella live reaction che mi sono commosso perché è stato il momento veramente in cui ho capito che effettivamente è tornato a giocare una partita per la juventus quindi tutto bene sicuramente uno degli acquisti tra virgolette di questo mercato invernale che sarà un mercato invernale molto particolare perché sarà un mercato invernale che non faremo o almeno magari qualche giocatore lo compreremo ma chiesa è già arrivato e quindi sicuramente sarà sarà un giocatore importante insieme a pogba che mi auguro di poter rivedere a gennaio quando tornerà la juventus che inizia ad avere una certa composizione sembra aver trovato un certo equilibrio appunto i rientri di pogba e chiesa siccome potrebbero rimettere tutto in discussione e quindi sarò molto curioso di vedere come poi verrà schierata la squadra in campo già nella prima partita mi pare contro la cremonese sono già orientato al 4 di gennaio un abbraccio ragazzi forza juve e domani cerchiamo di ragionare un po' su quello che è cambiato effettivamente all'interno di questa squadra in questi 40 giorni delle sei vittorie consecutive in serie a